Ciao ragazzi e bentornati sul canale più... ruotato del momento! Le rivelazioni calcistiche di Lorenzo Cantarini. Allora, siamo qui in questa puntata speciale oggi perché? Ovviamente per parlare del 272 di Tiago Motta al Genoa. Sì, questo modulo strampalato di cui mi avete chiesto tutti in 2406, credo tutti quanti, perché siamo arrivati a 2406 su Instagram, grande, stiamo crescendo in maniera pazzesca, ma ovviamente ne mancano altri... facciamo, dobbiamo arrivare a 11.300, quanti siamo iscritti su YouTube, per cui fate il conto, se siete iscritti su YouTube ma non siete iscritti su Instagram, iscrivetevi al canale Instagram, se invece non siete iscritti al canale YouTube, iscrivetevi al canale YouTube e poi vi ricordo, hashtag nazionale YouTubers, permettetemi di realizzare il mio sogno di creare questa nazionale YouTubers, e poi ovviamente hashtag FantaFlash, il fantacalcio delle rivelazioni calcistiche di Lorenzo Cantarini. Stiamo per partire, stiamo, attenzione, pochi giorni e si parte, restate sintonizzati cliccando la campanella. Vi ho detto tutto, iniziamo ad andare a vedere il Genoa di Tiago Motta, ed eccolo qua, schierato con questo fantomatico 272, con il portiere accanto al difensore, sette centrocampisti in mezzo che si intrecciano, due attaccanti, ma che cazzo di te, che modulo è, cos'è il 555 di Cana? No, invece dai, ne hanno parlato ormai tutti, credo, che praticamente è il modo di leggere la formazione partendo da destra, da destra, da sinistra, quindi ruotiamolo nel campo e vediamo dal basso verso l'alto, ecco qua, praticamente il difensore e l'attaccante esterno, poi il blocco centrale del campo e poi il difensore e l'attaccante sinistro esterni. E questo qua il modulo, ma ne hanno parlato tutti. E allora, perché hai dovuto fare questo video Lorenzo? Se ne hanno parlato tutti, perché nessuno invece ha parlato del fatto che basta ruotare di nuovo questo campo, che nessuno l'ha fatto, tra l'altro non si sa perché. Ed ecco qua che viene fuori la formazione come dovrebbe essere. Ma vi ricorda qualcosa a voi? Dai, sì, 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 vi ricordo ovviamente il 4-3-3 di Francesco, che giocava con le ali larghe e i tersini larghi. Cioè, è questo qua, è questo qua praticamente il succo di questa formazione rivoluzionaria. Allora, io ne ho già parlato tante volte quando c'era di Francesco alla Roma. È una formazione che a me non piace. Perché? Perché in Italia non va bene. I due attaccanti esterni che partono molto, molto larghi, in Italia non possono giocare. Perché? Perché se l'Europa invece è una formazione che va bene, infatti abbiamo visto il sassuolo di Francesco, la Roma stessa di Francesco, che ha raggiunto le semifinali di Champions. In Italia giocano tutti quanti praticamente con la difesa a 3, le squadre si devono salvare, più i tersini che sono molto bassi, per cui la difesa a 5. Per cui si trova la punta centrale in mezzo contro praticamente due centrali che lo marcano e l'attaccante esterno che ha palla non deve saltare uno, ma deve saltare due. Praticamente servono dei fenomeni. Ai lati che in Italia non ci sono i fenomeni. C'è Douglas Costa, Ronaldo, chi c'è? C'è Perotti con le 10 partite che fa. Poi non ci sono fenomeni che fanno questo gioco. Per cui per me è un modulo inutilizzabile. Quindi già ve lo dico a me, questo modo di intendere il calcio di Tiago Motta non piace. Però, 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 come per Ranieri, come per gli altri giocatori faccio lo storico faccio, perché per andare a vedere un po' quando gioco, guardo delle partite, vedo un po' come schiera, per Tiago Motta è impossibile allenare soltanto l'Under-19 nel Paris Saint-Germain, per cui è impossibile magari trovare veramente un... qualcosa, un appiglio, per vedere se poi in realtà il modulo con cui giocherà è questo. Ma credo sì che sia questo qua. E quindi allora andiamo a schierare i giocatori del Genoa su queste palline colorate. Andiamo a vedere come potrebbe giocare il Genoa di Tiago Motta. Ed eccolo qua, questa è la formazione un po' che danno tutti quanti i giornali, che è Rado in porta. Biraschi, Romero, Zapata, Cricito in difesa, Radovanovic, perno centrale nel centrocampo, Coscione e Lerager, che io ho messo all'era già lì, Lerager, mi sono spagliato, mi sono molto tardi, e attaccanti qua tutti quanti che si sono fomentati, perché tutti i giornali mettono Ghiglione, esterno d'attacco destro. Quindi tutti, oh, l'ho preso difensore, ho fatto l'acquistore, a sinistra qua me, e l'attacco Pinamonte. Allora, per me questa formazione, già non mi piace il modo di giocare del 4-3 con le alle larghe, in più questa per me è una formazione completamente strampalata, io vi faccio vedere quella che secondo me sarà la formazione con cui giocherà Tiago Motta, ed è questa qua, con Ghiglione, che invece torna tranquillamente in difesa al posto di Biraschi, Cione, che non farà l'incursore perché non ce la fa più, non ce la fa Cione, che farà il perno centrale di centrocampo, con invece Saponara, che potrebbe venire sfruttato per quelle caratteristiche di incursore che ha, e poi ovviamente, a la destra, Pander, perché come dicevo prima, Ghiglione per carità, buon giocatore, ma non credo che riesca a saltare due difensori della squadra avversaria, serve un giocatore che sia un pochino più tecnico, e quindi Pander potrebbe essere, come vedete, un po' abbassati, un po' schiacciati verso il portiere, perché così, messa come prima, con le ali sia larghe che alte, sarebbe una formazione veramente troppo sbilanciata, adesso va bene tutto, ma... però comunque sia credo che Tiago Motta se la giocherà, se la giocherà in maniera anche molto coraggiosa. E quindi andiamo a vedere come abbiamo fatto per la Sampdoria, praticamente è il video che abbiamo fatto per la Sampdoria, ma accorciato perché non c'è lo storico di Tiago Motta. Andiamo a vedere quali sono, secondo me, i consigliati di questa nuova formazione, e invece gli sconsigliati. Allora, tra i consigliati ho messo Ghiglione, perché, sì, perché dici, ma come l'hai messo in difesa? Ma Lorenzo, che stai facendo? No, perché comunque sia, magari, visto che veramente tutti i giornali l'hanno messo come era, probabilmente magari una prova Tiago Motta la farà, ma comunque sia sarà, avrà una spinta da terzino, molto più accentuata di quella che aveva con Andrea Azzoli, perché potrebbe essere comunque sia un buon portatore di bonus. Poi ovviamente le consigliati Saponara, che invece potrebbe trovare con questo modulo la sua realtà, fare un po' quello che era Nainggolan per Di Francesco nella Roma, e poi ovviamente ho messo Pandev e Kwame, ma tra i due io sinceramente metto più Pandev di Kwame, perché? Perché Pandev, secondo me, ha più caratteristiche di saltare all'uomo da fermo, piuttosto che Kwame, che invece parte in velocità, e credo che in questo modulo di velocità ne vedremo un po' pochina. Per sconsigliare, per gli sconsigliati invece ho messo Radu, perché, non lo so, si parla di questo portiere, molto alto, che gioca da primo attaccante, si parla, quindi, non lo so, boh, no, da ultimo attaccante, primo difensore, l'attaccante, primo difensore, il portiere, l'ultimo attaccante, come diavolo è fatta questa formazione, non si sa, comunque sia, bisogna testare Radu in questa situazione, che poi si è trovato Olsen anche, con la loro nome di Francesco, invece che andò a nozze, fu l'idilio per Alisson, non so se Radu ha quelle caratteristiche. Sconsigliati Pinamonti, appunto, perché, secondo me, avrà un pochino meno pallone di quelli che aveva rispetto adesso, e poi Scione, perché giocherà leggermente più arretrato. Bene, ragazzi, se vi è piaciuto il video, ovviamente mettete un like qui sotto, perché fa sempre piacere vedere i like. Ci vediamo domani sera, per i consigli sulla nona giornata, ovviamente aspetteremo la fine della loro pallina, per cui sarà il mio solito video di mezzanotte, e venerdì, poi dopo sarò fuori per lavoro, perché noi ci sentiremo, e quindi salta anche la live questa settimana, purtroppo salta la live, perché ci sarà l'anticipo del venerdì sera della Serie A. Bene, ragazzi, vi ricordo ancora nonostri, iscrivetevi al canale, come non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale Instagram, hashtag nazionali youtubers, hashtag Fanta Flash, prossima settimana, grandi, grandissime novità, un saluto dal secondo divano più famoso del web, se ha capito la battuta? Se non so sole.